Ciao, sono Luca, ho 24 anni, sono di Milano e studio BiomedicalOmics. Fin da piccolo mi sarei visto indossare un camice bianco, inizialmente volevo fare il veterinario, poi mi sono visto dottore ed infine oggi faccio il ricercatore. Di questi ambiti mi piace l'approccio scientifico alla realtà e il modo di comprenderla. Il corso in BiomedicalOmics penso mi stia preparando al meglio per la mia futura carriera nella ricerca oncologica, grazie al suo approccio multidisciplinare. Sto svolgendo un tirocino presso l'Istituto Europeo di Oncologia, nel gruppo del professor Pece, dove si va ad indagare la struttura spaziale del tumore alla vescica tramite il sequenziamento dei trascritti di MRN. Sarà un tirocino che dura un anno e ha delle forti implicazioni sia sulla clinica che sulla diagnostica. Al di là della scienza mi piace andare in montagna e camminare, sono due passioni che ho sviluppato e che porto avanti con Niccolò e D'Eduard, due miei amici che conosco da molto tempo. Il miglior consiglio che mi sia mai stato dato è arrivato dal mio capo scout quando avevo 12 anni ed è stato non esiste buono o cattivo tempo ma buono o cattivo equipaggiamento. Quando ho scoperto di aver vinto la borsa di studio è stata immediatamente una grandissima gioia. Riceverla è stato un grande input per avere una motivazione in più e puntare sempre in alto.